Salve a tutti gli amici di Media Boarding and welcome to our friends around the world. Ci troviamo ad Amsterdam nell'aeroporto della città Schiphol e siamo in attesa di un volo che ci porterà oltreoceano a Los Angeles precisamente, proprio con la compagnia di bandiera olandese, la KLM. Siamo curiosi di volare con questa compagnia e abbiamo prenotato dei biglietti in business class e se vi fa piacere venite con noi e facciamo questa esperienza insieme. Vi descriviamo il volo e tutto quello che succede durante queste ben oltre 11 ore di volo. Vero Stefano? Sì, certo. Siamo molto curiosi di vedere come si è attrezzata questa compagnia per adeguarsi ai modelli di riferimento nuovi, di nuovo tipo, quindi con la business class che tende a isolare il più possibile un passeggero dall'altro ed anche con l'uso di aerei ultramoderni come questo Boeing 787 Dreamliner col quale appunto facciamo il volo che ci porterà fino nella California. Un volo molto lungo, sono circa 12 ore in andata, qualcosa almeno di ritorno. Un volo anche che permette di assaporare sia la parte gastronomica del viaggio, sia quello che è la cosa più importante, il comfort e il riposo che è chiaramente necessario solamente per il fatto che si parla di 9 ore di fuso orario. Siamo finalmente arrivati a Los Angeles dopo un volo molto lungo, durato ben 12 ore, con KLM da Amsterdam appunto a questa metropoli californiana. Siamo praticamente nella zona di Hollywood e naturalmente in un giardino dove si affaccia anche una piscina, come è nella tradizione di questa città dove si dice ci sono più piscine che case, addirittura comunque sentiamo Rosita come è andato il volo. Il volo è stato perfetto, non ci sono state sbavature di nessun tipo, tutto liscio, le poltrone erano comodissime, lo spazio ovviamente era più che sufficiente, anzi abbondante direi, e il momento topico è arrivato quando ci hanno regalato la famosa casina che regala KLM, sono riproduzioni di edifici olandesi, in realtà sono contenitori per un liquore tipo gin, gin olandese o qualcosa del genere. Molto molto simpatico l'omaggio da parte della compagnia ai suoi clienti, ai suoi viaggiatori, e comunque in ogni caso, casina a parte che è molto simpatica, lo ripeto, il volo è stato delizioso, il cibo a bordo è di ottima qualità, siamo stati benissimo e naturalmente per la durata del volo non c'è mancato anche di riposare, quindi di dormire un pochino e di arrivare quindi a destinazione abbastanza riposati, abbastanza rinfrescati. È stata molto simpatica la sorpresa, diciamo sorpresa tra virgolette, perché poi in realtà lo sapevamo già, ma noi non l'avevamo mai ricevuta, di questa casina che viene data a tutti i passeggeri di business class sui voli intercontinentali, perché questa casina naturalmente ha dato luogo, come accade sempre, ha una grande collezione, perché questa cosa avviene da anni e quindi basta entrare nella lounge, ad esempio di KLM a Sheeple, quindi a Amsterdam, e si può vedere veramente quante decine ne sono state costruite e distribuite negli ultimi anni. Con questo da Los Angeles direi per il momento è tutto, noi vi diamo appuntamento alla nostra prossima occasione, e niente, grazie di averci seguito, grazie di continuare a seguirci, e naturalmente guardate il nostro sito internet, mediabody.it, e tutti i principali social network su cui siamo presenti, in particolare quella che vi chiediamo è l'iscrizione al nostro canale YouTube, su cui state vedendo appunto questi nostri short video. Per ora quindi è tutto, un saluto da Stefano, che sono io, e da Rosita, che invece sono io. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao.